oggi vorrei veramente essere da tutta altra parte di fare tutt'altra squadra io la vedo male la Lazio viene da una sconfitta con Napoli molto pesante potrebbe veramente essere l'occasione oggi ragazzi benvenuti alla disfatta del Milan poi ci sta anche la bellissima gufata di caressa il Milan fuori casa gioca meglio perché non interrompere questa serie oggi oggi sono preoccupatissimo signori io la vedo malissimo la vedo malissimo allora Lazio con Reina in porta Radu Acerbi e Marusic in difesa Lulic e Luis Alberto Lucas Leva Milinkovic Savic e Lazzari sulla destra Ciro Immobile e Correa davanti tosa sta formazione ragazzi sostanzialmente non ne manca neanche uno allora formazione del Milano Donnarumma in porta Te Arnande Zatomori Chiere Calabria benasera e che sia centrocampo Rebice Ciannogu e Sele Makers dietro a Mario Mandzukic che finalmente dopo tre partite che rompe i coglioni a Pioli me lo ammette di dolare alleluia alleluia comunque vabbè si inizia Sele Makers Ciala Mandzukic ciala subito Reina para un po confusionata questa azione però c'è però c'è però c'è buono 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 siamo partiti bene dai calcio d'angolo siamo partiti bene dai calcio d'angolo buona partenza del Milan buona partenza del Milan no ma viene Correa dove ha detto Donnarumma Correa Ragazzi Benvenuti nella conference league da farlo a prenderlo fantastico fantastico Inciampa anche sul pallone c'è ha fatto gol ha provato a scartare Donnarumma ha fatto gol inciampando sul pallone io una cosa così non l'ho mai vista non ha neanche tirato in porta c'è non ha neanche tirato in porta c'è io non schifo così Siamo tornati ai tempi che ci allenava Inzaghi ma quell'altro non è ma non è fallo di che sì questo non è fallo di che sì questo No immobile Donnarumma ha fatto il miracolo Ha fatto un miracolo Donnarumma immobile a un metro a un metro se un po fa il 2 a 0 Madonna ragazzi un colabrodo un colabrodo siamo A proseguire per Rebic Mandzukic che si fa dribblare da Marusic ho visto tutto Abbiamo fatto un tiro dopo 20 secondi Siamo spariti Si ha dato Benasera ha messo una palla lunga A 300 all'ora che Mandzukic prendendo le testa si è ribaltato Si è ribaltato Possesso palla di uno sterile ma di uno sterile Ragazzi non sorpassiamo la metà campo è una cosa abominevole Nooo palla regalata un'altra palla regalata alla Lazio Triangolazione perfetta qua l'allarghi a Rebic C'ha un oglu Rebic e Rebic va in porta Perché Marusic è pure girato Sbagliamo sempre il passaggio per arrivare in porta ragazzi Pa' dentro Mandzukic ha un metro dalla porta col braccio Non siamo buoni di mettere una palla in porta a un metro Ma stoppala Ma stoppala Ma stoppala Stoppala con la palla Se le Makers Rebic verso nessuno Io non ho parole Parole Siamo in sei in attacco Basta Basta vedervi così A un pressing alto a Lazio Allucinante Ternadez è fallo di Lucas Leiva Questo è fallo E qua tu mori si incazza con Rebic perché non va a raccogliere la palla Ma c'ha ragione Ma c'ha ragione C'è un oglu trattenuto Abbracciato così non è fallo C'è un oglu C'è un oglu C'è la C'è un oglu C'è un oglu C'è un oglu C'è un oglu La spara addosso a Reyn No no Leao no Leao no Leao no Leao no Ti prego Se c'è uno che questa partita non può fare qualcosa Già che non può fare niente nessuno Figuriamoci Leao Non è fallo di Manzokic questo È scivolato a cerpi C'è un oglu C'è un oglu Se le makers Perché sì Ma tira Ma tira Se le allunga Va addosso a Reyn Tira C'è un oglu Fallo 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 Orzato Fallo E fallo E fallo E fallo Su C'è un oglu Conti la Lazio Ma è fallo Su C'è un oglu Questo È fallo È fallo È fallo Per quanto Mori Si fa bruciare Prende gol sul primo Palo Uno peggio Dell'altro È fallo È fallo È fallo È fallo Bar Ha fatto così Non ha neanche toccato Palla No 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 Ragazzi Questo non è gol mai Questo è fallo netto Questo è fallo netto Che orgoglio di merda Che orgoglio di merda Certi arbitri Che schifo ragazzi Che schifo ragazzi Che schifo Non solo la perdiamo da noi Ce la fanno anche perdere Correa Diagonale Donna Rumma Vabbè ragazzi È persa È persa questa partita C'è Proprio non c'è Non ho parole Ragazzi All'andata Gli hanno dato un rigore Che non c'era mai nella vita Ora gli danno un gol così No ragazzi Mi piacerebbe fare come il Sassuolo Ha fatto con noi Mi piacerebbe Ma noi Il problema È che non siamo neanche il Sassuolo Siamo di meno Siamo di meno Questa partita finisce 2 o 3 a 0 Datemi retta Che va al cross Verso Mandzukic Rebic Rebic Non l'aggancia Gli passa davanti Non l'aggancia Signori Vai fuori manzo Che c'è dentro le Aoi Non ho parole Mettete i giovani A questo punto Siamo al 67esimo Questa partita è persa Perché non concretizziamo niente Mettete i giovani Se si perde 3 4 a 0 Si è comunque perso Ragazzi Correa Un attaccante Di merda Perché Correa È un attaccante Di merda Ha fatto quello che gli pare Dopo i testi ha dirizzato bene Ma è debole È debole È debole È debole Allora Milinkovic Savic Ha tirato una gommitata In faccia a Romagnoli Sta merda umana Di Orzato Non si è neanche Ravvisato Di fischiare fallo Io mi chiedo come Un essere così Merdoso Stia ancora ad arbitrare In serie A Dentro Immobile Vai il 3 a 0 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 Palo E Pereira La sfiora No io volevo il 3 a 0 Ragazzi Volevo il 3 a 0 Di Ciro No Io volevo il 3 a 0 Che palle Volevo l'umiliazione No No Almeno un gol Vi prego Un gol Calcio d'angolo Un gol Uno Non due Tanto due sono troppi Uno 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 Un gol Vi prego C'è 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 Il Benevento Oggi Oggi La Lazio È giocato Una partita Di campionato Ordinaria Contra una squadra Di media Bassa classifica Continua la sua rincorsa Verso il piazzamento In Champions League Palla dentro Marosic Lazzari Immobile 3 a 0 La Lazio Ha giocato la sua partita Contra una squadra Di media Bassa classifica Ha vinto Agevolmente Continua la sua Giusta Onesta E bellissima Corsa Verso la Champions La squadra Di media Bassa classifica Si vede soffiare Tutti gli obiettivi Prefissati Al fine stagione E la partita Finisce qui Non mi posso neanche più Incazzare in questo momento Va bene così ragazzi Se arriverà il quarto Arriverà il quarto Va bene così Buonanotte a tutti